Mr. Monsignore, allora era cominciata bene la partita 2-0, buon gioco, poi si è avuta l'impressione che siate cascati nella trappola del nervosismo su cui puntava molto questa malfetta, è così o che cosa è che non ha funzionato Mr. alla fine? Ma nel primo tempo, come giustamente ha detto lei, siamo partiti molto bene, li abbiamo messi in grande difficoltà con la nostra pressione e poi è successo che dopo il doppio vantaggio ci siamo innervositi per una serie di situazioni di campo, decisioni arbitrali, qualche intervento dei nostri avversari. Grazie a tutti. 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 una corrida.